Musica Riccardo Cristiano Liberi.tv Roma Dall'undicissimo congresso di radicali italiani intervistiamo oggi Leonardo Caffo direttore di una rivista Animal Studies rivista italiana di antispecismo Leonardo ci vuoi parlare un po' di questa rivista e soprattutto di come è nata e di quello che si propone di fare? Allora intanto dovevo toglierti il microfono è giusto? Intanto grazie per avermi dato questa possibilità di parlare della rivista qui oggi in occasione anche della Costituente e Nascitura Associazione Radicale Antispecista di cui ha parlato ieri Giovanna per cui abbiamo già detto tutto Allora la rivista è appena nata, questo è il primo numero ieri abbiamo fatto una presentazione qui a Roma, Rewild di cui ne abbiamo approfonditamente discusso è una rivista accademica, scientifica però aperta a contributi e a letture anche di persone che sono fuori dall'università ma che hanno l'interesse nei confronti dell'antispecismo e della questione animale La rivista nasce come costola cartacea e accademica del blog divulgativo Asinus Novus che è ormai abbastanza noto nell'ambiente dell'antispecismo italiano ed è una rivista trimestrale con dei numeri monografici quindi dedicati a degli argomenti differenti il primo numero è curato da Marco Maurizzi che è il co-ideatore e co-fondatore della rivista insieme al sottoscritto e ad altri ragazzi e ragazze di cui non posso fare tutti i nomi ma mi sembra indispensabile dire che è nata grazie al lavoro di tutti ed è dedicato appunto alle politiche della natura quindi alla problematizzazione del concetto di natura entro il quale si sviluppano nuove vie di fuga per il pensiero animalista, antispecista ma non soltanto per il pensiero più in generale di critica dell'assetto odierno, dell'esistente Io volevo chiederti un'altra cosa Leonardo qui nel libro leggo molti attivisti considerano la liberazione animale come totalmente indipendente dalla liberazione umana quindi che rapporto c'è tra queste due? Allora questa è la domanda da un milione di euro non lo vinco io però questa è appunto una domanda che fa Marco Maurizzi a un autore, San Bommazzo che abbiamo intervistato all'interno del libro che è un autore molto celebre nell'ambiente ha scritto un libro che parla appunto della teoria critica dell'antispecismo e lui sostiene che esiste un legame tra liberazione animale e liberazione umana quello che è importante è che c'è un dibattito attualmente interno dal punto di vista filosofico se questo legame significhi che c'è una necessaria implicazione tra le due lotte oppure se semplicemente c'è una matrice comune di oppressione dell'animale diciamo sia esso umano o sia esso non umano dipende la prospettiva da cui si guarda se noi la guardiamo attraverso una prospettiva per esempio di critica al capitalismo chi lo fa può farlo allora si può pensare che ci sia un meccanismo di oppressione verticale e orizzontale dipende anche questo caso dal punto di vista che sfrutti entrambi gli animali a tal proposito pensavo una cosa siamo più di 7 miliardi su questa terra quindi volente o nolente diceva qualcuno nel 2050 c'è la possibilità che comunque l'uomo debba rinunciare a mangiare la carne perché comunque le risorse idriche potrebbero venire a mancare quindi questa scelta che potrebbe anche essere obbligata secondo te far diventare vegetariana una persona è difficile o magari la condizione di vita potrebbe anche migliorare per una persona che passa da carnivoro a vegetariano? ovviamente la tua domanda estremamente interessante quello che vanno detto due cose in questo senso l'antispecismo e il vegetarismo non coincidono il vegetarismo o il veganismo dipende poi dalla specifica dieta che uno decide di assumere è una conseguenza dell'antispecismo ma non è né la causa né il prodotto principale dell'antispecismo l'antispecismo è una questione etica quindi si diventa vegetariane per motivi etici l'articolo a cui tu fai riferimento nel 2050 dice che diventeremo vegetariani per un obbligo cioè che a un certo punto il sistema economico produttivo ambientale è stato talmente scassato dalla specie Homo sapiens che non potremo più permetterci i privilegi che abbiamo adesso quindi rimane una sorta di perpetrarsi dell'egoismo antropocentrico che dice cambiamo soltanto quando saremo costretti a cambiare l'antispecismo invece vuole fare una grande domanda di senso e la domanda di senso è possiamo cambiare adesso possiamo farlo per altri individui e non soltanto ovviamente anche per noi ma soprattutto come dico io soltanto per loro e possiamo farlo e questo potere secondo me è anche un potere di imperativo categorico cioè noi possiamo continuare a guardare questo mondo sapendo che camminiamo su cadaveri che vediamo su morti che sono morti per colpa nostra io credo di no e l'assenso di una rivista come questa è problematizzare dei temi specifici il primo numero sulla natura il secondo sarà sulla scienza il terzo sulla morte il quarto sulla biopolitica eccetera 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 fino a trattare temi come la sperimentazione animale l'economia Giovanna che appunto è professoressa alla LUIS di Roma curerà un numero sull'economia poi ci saranno numeri sul neoliberalismo di una ricercatrice tedesca un numero sull'architettura delle città sui animali problematizzando tutti questi temi io credo che alla fine potremmo arrivare a una migliore formulazione della domanda di che cos'è l'antispecismo oggi mi domando anche un'altra cosa Leonardo Giovanna qualche tempo fa postava sul suo blog sul suo blog su Facebook un link di un sito dove si mostrava la macellazione di un maiale e dico la verità io l'ho visto e sono rimasto inorridito perché comunque non ti capita di vedere il processo che porta all'uccissione l'omicidio non si può chiamare omicidio però comunque l'uccissione barbara di un essere vivente quindi ad esempio voi parlate di una teoria critica per la liberazione della natura quindi anche una liberazione animale beh è ovvio sì sì la liberazione allora ovviamente quello che dice Marco Maurizzi che è il curatore di questo numero è che sul concetto di natura si giochi una vera e prova battaglia politica per questo senso politiche della natura ridefinire che cosa sia naturale e cosa no lo sappiamo significa anche dare libertà alle persone agli animali e a tutto quel complesso di viventi che hanno a che fare col mondo ambiente pensiamo oggi a quanto si giochi la battaglia del naturale riguardo una cosa come l'omosessualità un tema che è caro al Libri TV è caro a te che è un tema in cui ancora si batte il ferro sull'omosessualità come innaturale mentre si dice per esempio che è innaturale una cosa come la castità del prete per esempio non si dovrebbe capire perché dovrebbe essere che quello è veramente innaturale visto che siamo nati con un organo genitale che serve a determinati specifici compiti quindi sul concetto di natura passano delle grosse battaglie che non riguardano soltanto la liberazione degli animali ma riguardano anche la nostra liberazione perché noi possiamo dire che il problema non è se una cosa è naturale o no perché è naturale la guerra eppure non vogliamo la guerra è naturale la malattia eppure ci curiamo ciò che è naturale non è necessariamente buono anzi noi siamo un animale culturale quindi per quanto sia giusto creare una continuità con la natura laddove la natura è violenta laddove la natura è in contrasto con la nostra evoluzione morale questa va bloccata più delle volte si ha la sensazione specie quando si parla di allevamenti che ci sia un vero e proprio olocausto di specie animali in genere è come se l'uomo l'essere umano non volesse riconoscere comunque dei sentimenti una sofferenza che provino questi esseri viventi tu cosa pensi di questo concetto c'è un libro molto celebre che si chiama Un'eterna Treblinka scritto da Patterson in italiano è tradotto da Editori Uniti magistralmente da Massimo Filippi che è un libro che è scritto da una persona che ha vissuto sulla sua pelle il campo di concentramento lo sterminio di Treblinka e che racconta come per gli animali quello che lui ha vissuto che la sua gente ha vissuto per un breve periodo è eterna cioè continua per sempre e quindi dice gli animali vivono un'eterna Treblinka perché effettivamente il paragone c'è ora io credo che sia in proprio in certi casi e proprio in altri le motivazioni culturali storiche geografiche geopolitiche sono completamente differenti lì c'è un accanimento di una specie nei confronti di una stessa specie eccetera mentre con gli animali si stiamo a qualcosa di diverso non farei confronti quantitativi perché a perdere per ovvi motivi gli animali sono circa 50 miliardi l'anno che muoiono gli ebrei che sono morti sono molti meno ma non è la quantità che fa la gravità di una cosa noi non dobbiamo parlare della vita in relazione alla quantità la vita non può essere quantificata ogni morto è importante c'è una frase che dice Tiziano Terzani quando faceva il corrispondente di guerra lui dice i primi tempi io mi sconvolgevo quando vedevo i morti per terra dopo un po' dopo mesi nonostante io non lo avessi voluto fare cominciavo a contarli come se fossero dei numeri ciò che prima erano individui sono diventati dei numeri come gli altri noi oggi consideriamo gli animali dei numeri li marchiamo con dei numeri quindi la sofferenza di un numero non può essere vista soltanto soggettivando quel numero quindi rendendolo un'altra volta individuo allora possiamo ricominciare a ristupirci della diversità e a comprendere che finalmente l'empatia è una facoltà trasversale che possiamo provare anche per quello che Derrida definiva il mostruosamente altro fin quando non arriviamo a quel livello la nostra specie è una specie che è ferma alla lotta delle caverne per la pelliccia e per proteggersi dal caldo io voglio un essere umano che sia in grado veramente di immaginare un mondo libero per tutti e questa rivista può contribuire in questo senso secondo me ringraziamo ancora Leonardo Caffo per il contributo direttore come dicevamo di Animal Studies rivista italiana di antispecismo e speriamo che i nostri amici web ascoltatori ma tutti gli altri che vedranno questo video non si gireranno dall'altra parte come fanno in molti quando magari vanno al suo mercato e acquistano una vaschetta di carne ma faranno diciamo un consumo critico comunque un consumo intelligente vi invitiamo a partecipare oggi anche alla costituzione dell'associazione radicale antispecista dove ci sarà tra l'altro la nostra iscritta Giovanna Devetag e naturalmente anche Leonardo Caffo vi ringraziamo dal undicesimo congresso di regali italiani Roma grazie Leonardo grazie mille grazie a tutti